Ciao, sono Abdallah, sono uno studente di Ingegneria ed Irarchitettura all'ultimo anno e sono attualmente tutor all'internazionalizzazione. Ho deciso di scegliere Ingegneria ed Irarchitettura perché penso che sia fondamentale avere delle conoscenze trasversali e multidisciplinari. Per questo ho deciso di scegliere sia Ingegneria che Architettura. Tra le cose che più mi sono piaciute, in particolare l'esame di Architettura e Composizione Architettonica 3, dove abbiamo non soltanto parlato di architettura ma anche dell'interazione tra architettura e società. In particolare poi abbiamo anche imparato alcuni software di modellazioni che nel mondo del lavoro sono molto, molto richiesti. Innanzitutto ho l'intenzione di diventare un libero professionista e mi piacerebbe molto lavorare nell'ambito del restauro architettonico a livello nazionale e anche internazionale. Essere stato tutor all'internazionalizzazione è stata un'esperienza molto formativa perché mi ha dato l'opportunità di seguire sia il lavoro del corpo docente sia la mobilità internazionale dal punto di vista degli studenti.